Ormai il mondo cardiologico è molto attento e conosce bene che tra le varie cause di aumento di spessore o di scompenso cardiaco non altrimenti spiegato sta l'amiloidosi cardiaco o meglio l'interessamento cardiaco ad amiloidosi. Nella grande maggioranza di casi si tratta delle forme da transtiretina ma dobbiamo sempre stare attenti a cercare di escludere anche come cardiologi nella diagnostica iniziale le forme L e questo è fattibile se noi associamo alla scintigrafia ossea che ormai sappiamo essere molto utile e molto importante per la diagnostica dobbiamo associare l'immunofissazione di siero e urine e il dosaggio delle catene libere. Questo è possibile nella maggior parte dei laboratori ma è fondamentale farlo all'inizio perché se noi escludiamo la possibilità di una amiloidosia L da un lato facciamo un favore al paziente perché possiamo iniziare al più presto la terapia corretta per le forme da transtiretina ma dall'altro facciamo in modo che i malcapitati che capitano di avere una forma L si trovano una terapia molto più precoce. È importante ricordarselo perché le forme L sono quelle che hanno ancora una mortalità estremamente elevata e intollerabile. Molte cose sono migliorate ma molto c'è da fare. Per cui dal punto di vista diagnostico dobbiamo essere attenti. Esistono le cosiddette red flag che ormai conosciamo perché ne abbiamo sentito parlare in tutti i modi. Ricapitolandole rapidamente sono tutte quelle situazioni in cui un aumento degli spessori che non è altrimenti spiegato oppure uno scompenso cardiaco che non è altrimenti spiegato insieme al fatto spesso di avere una frazione di reazione preservata, una tolleranza scarsa alle terapie convenzionali per lo scompenso quali beta bloccanti, segni neurologici e segni ortopedici quali il tunnel carpale devono accenderci la lampadina. La scintigrafia ossea insieme all'immunofissazione di serurine è il capitello, il caposaldo di quella che è la diagnosi. Teniamo conto che la scintigrafia ossea ha solo cinque anni per cui molta ricerca è in corso, molte cose nuove le scopriremo nei prossimi tempi. Sicuramente chi di noi si occupa di questo sa di che cosa sto parlando e nello stesso tempo se all'inizio avevamo solo le immagini piane, adesso cominciamo a usare le immagini spectri, confronto con i polmoni e tutta una serie di altri piccoli trucchi che ci aiutano a diagnosticare al meglio. Rimane ancora sconosciuto il motivo per cui il tracciante osseo nella maggior parte delle forme da transtiretine in qualche forma da L capta a livello miocardico ma detto questo dal punto di vista pratico è uno strumento assolutamente preziosissimo tanto che possiamo chiamarla come una biopsia non invasiva. Grazie a tutti.